Grazie Universo. Io sono. Cari amici, oggi vorrei condividere con voi la mia profonda gratitudine per l'universo e per tutto ciò che mi ha donato. Io sono ricchezza, non solo in termini materiali, ma anche di esperienze e amore. Io sono bello, sia dentro che fuori, e mi sento fortunato per questo. Io sono talentuoso, capace di realizzare i miei sogni e obiettivi. Io sono abbondanza, con una vita piena di opportunità. Io sono benedetto in molti modi e per questo ringrazio ogni giorno. Io sono ricco di esperienze e conoscenze che mi arricchiscono continuamente. Io sono protetto dall'amore e dalla luce che mi circonda. Io sono intelligente, capace di affrontare le sfide con saggezza. Io sono meraviglioso, unico e speciale a modo mio. Io sono felice, trovando gioia nelle piccole e grandi cose della vita. Io sono prezioso, riconoscendo il mio valore intrinseco. Io sono sano, nel corpo, nella mente e nello spirito. Io sono un capolavoro, creato con cura e amore. Io sono abbondanza, in ogni aspetto della mia esistenza. Io sono prosperità, attirando successo e felicità. Io sono luce, illuminando il cammino mio e degli altri. Io sono potente, con una forza interiore che mi sostiene. Io sono amorevole, diffondendo affetto e gentilezza. Io sono amabile, degno di amore e rispetto. Io sono forte, superando ogni ostacolo con determinazione. Io sono generoso, condividendo le mie risorse e il mio tempo con gli altri. Io sono amore, vivendo con compassione ed empatia. Io sono gentile, trattando tutti con rispetto e cortesia. Io sono gioia, vivendo ogni giorno con entusiasmo e gratitudine. Io sono successo, raggiungendo i miei obiettivi con passione. Io sono passione, dedicandomi completamente a ciò che amo. Io sono vita, pieno di energia e vitalità. Grazie, universo, per avermi donato tutte queste meraviglie. Grazie per avermi fatto chi io sono. E mentre rifletto su tutto questo, mi rendo conto che ogni giorno è un'opportunità per crescere e migliorare. Siamo circondati da bellezza e abbondanza, e ognuno di noi ha il potere di creare un impatto positivo nel mondo. Io sono fortunato di avere persone meravigliose nella mia vita, che mi supportano e mi ispirano. Ricordiamoci sempre di esprimere gratitudine per le piccole cose, di trovare la bellezza nei momenti semplici e di vivere con passione e amore. Ogni giorno è un dono, e io sono grato per ogni respiro, per ogni sorriso, per ogni atto di gentilezza. Insieme, possiamo creare un mondo migliore, un mondo dove la luce e l'amore prevalgono. Grazie a tutti voi per essere parte del mio viaggio. Io sono felice di condividere questa meravigliosa avventura con voi. Grazie, universo, per tutto ciò che sono e per tutto ciò che ho. Io sono pronto per il futuro, con cuore aperto e spirito coraggioso. Spero che tutto questo, ti abbia arricchito ed esprima appieno il tuo sentimento di gratitudine e ispiri chi lo ascolterà. Grazie, grazie, grazie universo.